Nadia Cavalera, chiamata ai giusti. Dio, l'universo, vita coincidenzia oppositorum, acta sancta sanctorum, tutto e il suo contrario armamentario, il fuoco della beltà diversità, in un breviario di sfumature senza critico lume, si impone il caso Eldorado Brado. I colori pendolano in mondi infiniti senza limiti. Il campionario del bene e del male è rispettato in ogni particolare, non ha l'eguale e continua ristampa originale. Dalla notte primordiale solo una legge vale, il Dio diffuso in noi incluso non può parteggiare, è inutile pregare. La giungla del più forte sfonda tutte le porte, s'accaparra le torte, ha la maschera unta della difesa ma sotto e determinata cieca offesa, prevaricazione, sopruso, plurisistemico, colluso, e la lotta non conosce sosta, l'unica speranza è l'alleanza. Pochi individui bigi sopprimono i più remissivi, con ideologie dolose e senza profumo di rose, accendono il dolore a tutte le ore e in tutte le pose, il denaro e l'antico motore alleato signore. E fioriscono, ora silenziose, ora clamorose, le guerre di sessi, le guerre familiari, le guerre sociali, le guerre civili, le guerre di stati, gli uni contro gli altri armati, per lo più accecati da interessi economici letali, in scene di violenze irrazionali, sempre uguali e senza pari, in transumanze della disperazione e in cerca di tepore, nel culto della distruzione che non risparmia neppure l'originario albume. La nostra terra madre, seviziata ovunque, in ogni sole, svegliati, donnuomo, giusto, consapevole, cerca i tuoi simili temprati di solidarietà, porta il piatto della bilancia nella tua metà e l'estrema via salvifica alla redenzione in saldo d'occasione. Il tempo a breve scadenza, esserci e la pressante necessità.